Tanti cavalli nascosti, ma nel frattempo parti! Cavalli della quarta corsa del pomeriggio. Il più veloce sulle prime è Robin Secret, che poi però lascia strada con una certa decisione a Cor Valentina, quest'ultima superata all'interno da Avalon, e poi si trascina anche Doze, l'altro che scala dalle Maiden. Buona la partenza anche per carta vincente, al centro della pista troviamo la giubba rossa di Yellow Red Dream, la seconda linea invece è completata dalla favorita River Spirit, ancora Toal De Griff, che si lascia alle spalle Mainmar, in coda a tutti troviamo Brivido Felino e anche Calinia, che è l'altra debuttante, nel gruppo c'è Bridge e Ciappador. Cavalli che vanno ad affrontare così la prima parte della curva, Avalon in vantaggio nei confronti di carta vincente, comunque i due procedono in coppia, la terza posizione è per la giubba nera di Doze, che poi si lascia al suo esterno Cor Valentina e Yellow Red Dream, dietro a questi troviamo anche la favorita River Spirit, poi Mainmar, Sospinta e Toal De Griff, Brivido Felino ed ancora Robin Secret e il resto del gruppo. Siamo già in retta d'arrivo con Carta Vincente, che ha provato la carta del lungo anticipo, trascinandosi Doze all'interno, che si muove in maniera piuttosto confidente, poi River Spirit è allo steccato, al centro della pista, trascinandosi anche Cor Valentina, che è un po' stretta in questa fase, con Doze, che è braccato ed attaccato all'esterno da River Spirit. Lo stesso Doze, però è ripartito di slancio sotto la spinta di River Spirit. Doze, che adesso prova ad allungare ulteriormente Doze, che nel tratto conclusivo contiene il ritorno di River Spirit nel tratto finale per il terzo Mainmar. Vince dunque Doze, figlio di Washington DC, che dopo l'ottavo posto al debutto ottiene subito la vittoria. Scalando di categoria, Giuseppe Ercegovic in sella, il training è quello di Gianni Colelli, colori della Domizeus. Sette al primo posto, undici al secondo, dieci al terzo, vince Doze. Bel fisico per il cavallo stellato da Gianni Colella, riuscito a contenere l'affondo della favorita River Spirit. Da Capanelle per la quarta è tutto. Grazie. Grazie.